6 persone sono state arrestate ed un minorenne è stato denunciato in stato di libertà da carabiniere e polizia dopo essere stati sorpresi all'interno dell'agenzia del territorio a catanzaro mentre stavano cercando di asportare due casseforti carabiniere e poliziotti sono stati avvertiti dalla segnalazione di alcuni abitanti della zona che hanno riferito di avere sentito dei rumori sospetti una volta giunte sul posto le forze dell'ordine hanno trovato i sette bloccandoli grazie a tutti grazie a tutti